ciao amici fiosini come state? spero tutto 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 bene oggi andremo a fare un super monsound asmm psicodélico con il caleidoscopio, body lax e anche se si chiede la parte del caleidoscopio, body lax Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì.